Eccoci qua, ciao ciao! Dunque oggi parliamo di cerchi e pneumatici, non perché mi sia inventato gommista o cose di questo tipo, ma perché in effetti ho appena cambiato i cerchi della mia auto. Qualcuno ha avuto modo di vederli in anteprima al raduno Cupra Etna 2022 che si è svolto da poco, ma vi faccio vedere naturalmente sia prima, quando sono ancora nel box, prima del montaggio e poi dopo a montaggio finito. Ma quello che importa in questo video è capire un po' di più come stare in regola con il codice della strada per non incorrere in sanzioni, ma non è soltanto la questione della sanzione, è anche la questione della sicurezza. Quindi proviamo a vedere un po', di interpretare bene cosa dice il libretto, a proposito delle misure dei copertoni, perché ci sono molti dubbi su queste cose, sento un po' di tutto, e magari anche qualche indicazione su quali cerchi eventualmente andare a guardare, cosa considerare, proprio a livello di numeri e di omologazione, se volessimo cambiarli anche noi. Per cui restate su questo video e affrontiamo un po' tutta questa roba qua. In effetti la questione dei pneumatici, parto da lì innanzitutto, è centrale. Considerate sempre che i copertoni sono l'unico punto di contatto tra voi e l'asfalto. Non si scherza con i copertoni, sono gli elementi veramente fondamentali per la sicurezza di un'auto. Non entrerò nel dibattito sempre molto acceso tra le varie marche, marche premium, di prima fascia, di seconda fascia, e alcuni sostengono che i costi premium non siano giustificati, che comunque anche di seconda fascia, spendendo di meno, i copertoni sono buoni, i produttori sono gli stessi, eccetera. Non entro in questa questione perché non voglio convincere nessuno, ognuno naturalmente fa le proprie valutazioni anche in base al proprio budget. Ma ci sono alcune cose oggettive, che non è necessariamente il prezzo superiore, ma la qualità che c'è dietro. I grandi produttori naturalmente impiegano molte risorse, molti test, per sperimentare sempre nuove mescole, nuovi design, naturalmente questo per agevolare sia la sicurezza, ma anche ridurre magari i consumi. Quindi dietro c'è un lavoro di laboratorio, un lavoro scientifico, che naturalmente costa. Questo naturalmente non sempre magari giustificherà uno scarto di prezzo così significativo, ci sono delle fasce, come dire, inferiori di copertoni che tutto sommato sono abbastanza vicini ai premium. Ma ripeto, ognuno poi farà le proprie scelte. Detto questo, io sostituisco i copertoni Bridgestone-Turanza, quelli con cui esce la Cupra Formentori, in alcuni casi esce con Pirelli, con altre marche, ma la maggior parte dei casi con questi copertoni estivi. Nel mio caso parliamo ovviamente dei cerchi da 19, quindi la misura è 245-40 R19. Cosa significa questo? Significa naturalmente vado a cambiare i copertoni in inverno, però non metto i copertoni termici, le ruote, diciamo così, non classiche invernali. Questo perché non vivo in mezzo alla neve, non vivo in alta montagna, ma spesso vado in montagna anche con temperature, insomma, estreme, con molta neve. Chi ha visto alcuni video della passata stagione, mi segue sul canale da un po', avrà visto tanti video con tanta neve, insomma, la mia guida lì era naturalmente con le Bridgestone quattro stagioni. Parliamo delle Bridgestone All Weather, Weather Control, All Season e la Evo, e devo dire che mi sono trovato molto molto bene. Io viaggio anche con le catene, insomma, autotensionanti, quelle della König. Non ho avuto mai bisogno finora di metterle, perché con quattro stagioni mi sono trovato bene. Anche qui non aprirò un altro grande dibattito sui copertoni, cioè la differenza tra pneumatici invernali e quattro stagioni. Molti ritengono che i pneumatici invernali comunque sono superiori nella resa, nella performance su neve e ghiaccio rispetto alle quattro stagioni. Io direi di sì, cioè sono d'accordo con questa affermazione di base. Non sono d'accordo sul fatto che il quattro stagioni comunque non è sufficientemente buono per risolvere situazioni di quel tipo. L'ho testato io tante volte, non solo con la Cupra Formentor. I quattro stagioni degli ultimi anni sono dei copertoni veramente molto evoluti, che si comportano veramente molto bene in quasi tutte le circostanze. Dopodiché io non tengo i quattro stagioni, nonostante il nome dica che vanno bene per tutte le stagioni, non li tengo montati su per l'estate. Rimetto gli estivi, perché con le temperature torride della Sicilia preferisco comunque un estivo che si comporta meglio di un quattro stagioni. Direi che il quattro stagioni performa meglio o un po' più vicino, ecco, al pneumatico invernale con una resa veramente ottima rispetto all'estivo su asfalti bagnati, quindi condizioni di pioggia, di umidità, di fango e così via. Quindi reputo personalmente il quattro stagioni un po' più vicino alle stagioni invernali che non alle stagioni estive. Quindi il quattro stagioni lo chiamerei due stagioni e mezzo, diciamo così, ma è una mia considerazione personale dovuta alla mia esperienza e alla mia sensazione di guida. In estate preferisco avere l'estivo. Non monto l'invernale, come dicevo, perché l'invernale funziona meglio in particolari circostanze ambientali, in particolar modo di temperature sempre costantemente abbastanza fredde, di solito comincia a performare veramente bene come gomma termica sotto i 7 gradi. Io non sempre mi trovo a quelle temperature, vivendo in Sicilia, insomma tra Catania ed Etna, oscillo tra i 20 gradi anche in inverno magari e gli 0 gradi dell'Etna o anche meno. Quindi una gomma termica è una gomma un po' troppo spinta in una direzione per quelle che sono le mie esigenze. Ecco, un altro dato importante, scegliete il copertone, buono naturalmente, che risponda veramente alle vostre esigenze. L'ideale è avere il copertone giusto per ogni stagione. Allora, il cambio di copertoni, nel mio caso, da estivo a quattro stagioni, ripeto, quattro stagioni per me rappresenta l'invernale per le mie esigenze, mi ha portato a cambiare anche cerchi, proprio per non montare e smontare i copertoni sempre sullo stesso cerchio originale, insomma evitare ogni volta questa operazione, un po' per evitare danneggiamenti sul cerchio, ma anche perché, capite bene, è un'operazione molto più semplice, togliere tutta la ruota e non fare montaggio e smontaggio. Detto questo, è molto importante capire che copertoni scegliere, quindi prima di passare ai cerchi, alla questione cerchi, vediamo un po' insieme di capire cosa scegliere per i copertoni. Vi metto qui nella clip, accanto, da qualche parte, un estratto del libretto di circolazione della Cupra Forventor. Vedete diverse misure, sono sei le misure che vengono messe al libretto e il grande dilemma subito con cui misurarsi è quella sigla M più S, che fa andare in tilt molte persone. Beh, in realtà è molto semplice. M più S, innanzitutto, è una sigla che sta per due parole inglesi, M sta per mud, che significa fango, S sta per snow, che significa neve. Quindi sono i copertoni adatti a un uso su fango e neve, naturalmente non necessariamente fuoristrada, quelli sono gli all terrain. Quindi i copertoni M più S sono i copertoni invernali, diciamo così, va bene, sono quelli lì. Cosa significa che su alcune misure troviamo M più S? Bene, molti interpretano al contrario questa indicazione, cioè credono che i copertoni invernali debbano essere montati solo con quelle misure, cioè possono essere scelti soltanto tra quelle misure specifiche in cui è indicato M più S. Non è così, è esattamente il contrario. Cioè significa che per il codice della strada noi possiamo indossare, non indossare, la macchina può montare, noi proviamo a indossare i copertoni, vediamo come ci stanno, una nuova moda. Comunque, dicevo, i copertoni che possiamo montare, se invernali, possono essere montati per tutte le misure riportate al libretto, tutte, sia con M più S sia senza. Che sia chiaro questo, invece viene interpretato al contrario. E invece sono i copertoni estivi a poter essere montati solo in quelle misure senza M più S. Allora, cosa significa questo? Perché possiamo montare i copertoni invernali su tutte le misure ma troviamo M più S solo su alcune misure? Bene, questo ha a che fare con quanto consiglia il costruttore, il produttore dell'auto, che ha fatto dei test, delle omologazioni, e allora consiglia come pneumatici invernali quelle misure lì. Ma non c'è nessun obbligo, nessuna prescrizione. Noi possiamo montare copertoni invernali su tutte le misure al libretto, gli estivi solo sulle misure senza M più S. Quindi c'è addirittura meno scelta per l'estivo e più scelta per l'invernale. È esattamente il contrario di quello che tante volte le persone pensano. Cioè, posso montare gli invernali solo lì, solo M più S, e le estive ovunque. È esattamente il contrario. Le estive solo dove non c'è M più S. Allora, chiarito questo, spero, insomma, per molti, magari molti lo sapevano già, buono così, naturalmente. Insomma, il gommista dovrebbe comunque saperlo, se ci si rivolge un buon gommista. Cosa significa questo? Cosa scegliere? Beh, come vi dicevo, nel mio caso io non ho scelto la gomma invernale, ma l'equivalente per il codice della strada, cioè un copertone con la sigla M più S, ma soprattutto con il simbolo del fiocco di neve, quello della montagna, Snow Peak. Quindi, Snowflake, scusate, Peak è la montagna. Quindi, Snowflake, il fiocco di neve rappresenta la certificazione che quello è un copertone per la neve. Quindi, sulle strade in cui è prescritto l'obbligo di pneumatico da neve o catene da neve a bordo, voi sarete in regola per il codice della strada. Ma non solo sarete in regola, come dicevo in apertura, si tratta proprio di una questione di sicurezza. Avrete molte chance, insomma, di poter guidare tranquillamente anche in caso di innevamento. Ecco, torno a dire, a proposito della qualità della performance del copertone quattro stagioni, che il quattro stagioni performa molto bene sulla neve e naturalmente la gomma termica resta specifica per quelle situazioni. Ma ci sono circostanze in cui nemmeno la gomma termica va bene. Quindi, pensare che la gomma termica vi risolva qualunque situazione è sbagliato. Io personalmente viaggio sempre con le catene a bordo perché ci sono delle situazioni in cui nessun copertone vi potrà tirare fuori. Penso a una situazione con ghiaccio, per esempio, in salita, dove non c'è trazione. Insomma, anche il copertone da neve può andare in difficoltà. Almeno non abbiate il copertone chiodato, come si usa in Islanda, per esempio. Allora, a quel punto le catene vi salvano, vi tirano fuori. Ma questo succede, insomma, bisogna essere ben equipaggiati. Io lo sono perché naturalmente pratico quei posti lì, cioè parliamo dell'Etna, 2000 metri in inverno, condizioni veramente estreme, polari. C'è più neve forse sull'Etna ormai che sulle Alpi. Allora, se voi non frequentate queste zone, insomma, basterà magari anche il copertone estivo con delle catene. Ma non è soltanto una questione, ripeto, di rispetto del codice della strada, cioè essere a norma. Quindi il copertone estivo, le catene in caso di neve, è una questione di sicurezza, di performance. Il copertone estivo, con temperature che scendono sotto i 7 gradi, comincia a performare peggio. C'è poco da fare. Così come con temperature molto elevate, il copertone estivo risulta la scelta migliore. Allora, detto questo, andiamo a vedere un'altra indicazione specifica dal libretto di circolazione. Quindi abbiamo chiarito M più S, dove possiamo montare i pneumatici invernali o i 4 stagioni, tutte le misure al libretto. Un'altra cosa importante, tante volte noi non troviamo il codice di velocità, che è l'ultima letterina indicata nella misura, quindi abbiamo naturalmente il battistrada, la spalla, il raggio, eccetera. Bene, quella letterina magica, W per esempio, nel caso del copertone per i 19 pollici, e rappresenta il codice di velocità, cioè naturalmente la velocità massima a cui può andare quel copertone montato sull'auto. Bene, tante volte è difficile trovare un copertone invernale, non parlo quindi di un 4 stagioni, un copertone invernale con quel codice di velocità così elevato. E lo troviamo magari di una lettera più bassa, per esempio V, invece di W. Allora, il codice della strada ci permette di montare copertoni invernali di una lettera inferiore, ma anche di più lettere inferiori, a patto che non siano inferiori alla lettera Q. Naturalmente, se noi facciamo questo, e il codice della strada lo permette, quindi non abbiamo l'obbligo di montare la W su un copertone da neve, ma se la facciamo bisogna stare attenti perché questa deroga, va bene, questa opportunità vale all'interno della finestra specifica in cui è obbligatorio montare i pneumatici da neve su alcune strade, cioè in generale dal 15 novembre al 15 aprile. Prestate attenzione che poi questa data, questa finestra varia naturalmente in funzione delle zone specifiche in cui ci troviamo. Naturalmente su alcune strade può essere anticipato, può essere posticipato, eccetera. Dipende poi dalle ordinanze specifiche comunali, regionali, naturalmente. In alcuni posti fa freddo prima, arriva la neve prima e così via. Ma all'interno di quella finestra, ufficialmente riconosciuta, all'interno di quella finestra noi possiamo montare pneumatici invernali con codice di velocità inferiore, purché alla fine della finestra noi togliamo i copertoni. Noi non possiamo girare con i copertoni invernali fuori da quella finestra. Quindi è molto importante questo. Si possono montare pneumatici con codice di velocità inferiori, minimo Q, non meno di Q, ma solo in quella finestra. Invece se li monto della misura giusta, io posso andare naturalmente con quei copertoni sempre. In generale, naturalmente, monto i copertoni invernali solo all'interno di quella finestra specifica, se sono gomme termiche. Nel caso delle quattro stagioni che io mi ritrovo, ripeto, Bridgestone Weather Control Evo, io addirittura ho un copertone con codice di velocità superiore, cioè Y. Quindi addirittura, insomma, non ho il problema della velocità inferiore, ma della velocità superiore. Naturalmente questo significa che io posso girare con quei copertoni tutto l'anno, altrimenti non sarebbero quattro stagioni. Ma ho precisato che non lo faccio per esigenze specifiche, per il contesto ambientale in cui mi trovo. Ed è quello che dovrebbe fare chiunque nel valutare, appunto, dove utilizza l'auto maggiormente, in quale ambiente, con quali temperature, con quali condizioni meteo, quali strade percorre e così via. Bene, l'ultima cosa da vedere a proposito dei copertoni è invece riguarda i cerchi. Quindi, come vi dicevo in apertura, ho cambiato i cerchi proprio perché cambiando il copertone cambio direttamente il cerchio per evitare montaggio e smontaggio del copertone sullo stesso cerchio. E poi è più veloce, più pratico, eccetera. Quindi ho già cambiato i copertoni, quindi vi farò vedere tra poco i cerchi, qualche immagine, insomma, nel box appena arrivati, ma io già li ho montati, ho già fatto il raduno Cupra con le quattro stagioni e i cerchi nuovi. I cerchi che ho preso io sono cerchi tedeschi della Brock, marca famosa in Germania, che ha anche una linea che si chiama RC Design. Il cerchio che ho preso io è un RC 34, è di un ramato, loro lo chiamano black orange matte, non è proprio arancione, ma insomma è il colore Cupra. Ed è stata un'operazione molto, molto complicata quella di trovare un cerchio ramato, quindi stile Cupra, omologato. E qui torniamo al problema del rispetto del codice della strada, cioè l'omologazione del cerchio. Sì, anche il cerchio deve essere omologato. Esistono diverse omologazioni, naturalmente omologato per il codice della strada in Italia. In Italia esistono due certificazioni o due omologazioni, una tutta italiana, insomma le solite cose un po' all'italiana, purtroppo mi viene da dire, che è la NAD. Capite bene che è un produttore straniero, e molti produttori di cerchi sono naturalmente non italiani, in Germania, sapete, la Germania è un po' la patria del tuning, non solo per i cerchi, ma per tante cose, e beh lì è più facile, hanno l'omologazione TUV, oppure la ABE per i cerchi, insomma, molto più semplice. Capite che un produttore straniero difficilmente farà tutta la trafila burocratica, o anche in termini di costi, per ottenere una certificazione, la NAD, in questo caso che vale solo in un paese, dove probabilmente solo io comprerò quei cerchi. Per cui non trovate cerchi NAD, se non quelli dei produttori italiani, tipo Avus, eccetera. Allora andiamo ad un'altra omologazione, quella che è più facile trovare, facile tra molte, molte virgolette, perché in realtà è molto complicato trovare cerchi anche con l'omologazione europea, la ECE, E-C-E, perché naturalmente se cercate il classico cerchio un po' silver, nero, eccetera, total black, insomma, cerchi che montano un po' la cupra in origine, non ramati, beh, lì avete più speranza di trovare un'omologazione ECE. Ma per i ramati è veramente complicato, non sapete quanto ho indagato, quante ricerche ho fatto per trovare un cerchio che innanzitutto mi piacesse, che fosse ramato, ma non perché volessi il cerchio ramato a tutti i costi, ma per cambiare un po', no? Se cambio cerchi mettiamo anche qualcosa di diverso, non metto un doppione, altrimenti tengo quelli che ho, che fosse appunto omologato ECE. Ho trovato questi, naturalmente, ripeto, tra i produttori italiani qualcosina la trovate, ma a livello, insomma, di ricerca internazionale ho trovato quelli che tra un attimo poi vi farò vedere, sono appunto quelli della Brock. Allora, cosa è importante per l'omologazione ECE? E' importante perché, naturalmente, significa che siete in regola, cioè il cerchio è omologato per le misure per la vostra auto. Quando comprate il cerchio, il venditore, insomma, vi darà la possibilità di avere tutta la certificazione, praticamente, con tutta la, magari ve lo metto qui nella clip, da qualche parte, giusto per farvi vedere qualcosina, con i dettagli del cerchio omologato per la vostra auto, perché quello che conta è che abbia l'omologazione ECE, ma abbia l'omologazione ECE specifica poi per la vostra auto, naturalmente, quindi con l'indicazione anche proprio del copertone, della misura del copertone, quindi in modo che sia perfettamente in linea con le misure dei copertoni che poi noi abbiamo sul libretto della nostra auto. Quindi è fondamentale questo. L'altro aspetto fondamentale è che se ha davvero un'omologazione ECE, questa deve essere sempre, chiaramente, visibile per una ispezione da parte delle forze dell'ordine e quando eventualmente vi fermano per un controllo. Quindi è una indicazione, una scritta, che trovate stampata sul cerchione. Deve essere sempre visibile, a copertone naturalmente montato, e quindi non basta dire ho il foglietto qui con la certificazione, quello magari aiuta, ma è fondamentale che sia riportato, proprio scritto, stampato sul cerchio, ed è il caso dei miei cerchi. E vi farò vedere anche questo dettaglio, perché è molto importante. Quindi se è riportata la sigla E, non ECE, la lettera E seguita da un numero, siete a posto. Il numero in generale rappresenta la nazione, è il numero associato alla nazione dell'Unione Europea. Nel caso delle omologazioni italiane, lo sapete già per chi magari usa il casco, cosa troviamo sempre? E3, bene, significa omologazione europea in Italia, fatta in Italia. Quindi il 3 rappresenta l'Italia. Nel caso dei miei cerchi, sono tedeschi, quindi avranno il numero 1, la Germania è il numero 1. Dopodiché trovate il numero 124, perché quella è la direttiva europea, la 124, ECE 124, per l'omologazione dei cerchi. Bene, come vedete, insomma, ci sono diversi fattori da tenere a mente, da considerare prima di cambiare pneumatici, di cambiare cerchi, eccetera. Sono cose alla fine che se conosciamo, tutto sommato, possiamo tranquillamente gestire senza particolari problemi, come ho fatto io. Quindi spero di aver spiegato un po' la situazione per quello che riguarda cambio gomme, cambio cerchi eventuale. Quello che conta per le misure dei cerchi e che abbiano le stesse identiche misure del cerchio originale che andate a sostituire, che se non avete vari problemi, e quindi l'omologazione passa in secondo piano, naturalmente. Nel caso del cerchio da 19, per la Cupra Formentor, le misure sono il canale E8, sapete c'è un canale che può andare a 8,5 di solito, E8, J, per 19, che è il raggio del cerchio, gli altri dati da tenere in considerazione, ma in generale scelte già alcune variabili, gli altri elementi sono un po' già bloccati. Va bene? Perché in generale un canale da 8, i cerchi su un canale da 8 hanno poi 5 fori, che sono i bulloni, i dadi con cui andiamo a montare il cerchio sulla macchina, e PC di 112. Quindi i numeri sono 8 per 19, 5 per 112. Quando abbiamo questi numeri, in generale già abbiamo un cerchio perfettamente compatibile con la nostra auto. c'è un ultimo valore da tenere però a mente, che è l'ET, e quindi la distanza, diciamo così, rispetto al montaggio. Quindi questa distanza, questo gioco che può fare di avvicinamento o di allontanamento rispetto al mozzo, e quindi al montaggio, è suscettibile di piccoli margini di variazione. Allora, il numero ufficiale, in questo caso, è ET 40, è il 40, se andate a sostituire i cerchi originali da 19. Quindi 8 per 19, 5 per 112, ET 40. Questo è il cerchio ufficiale per i 19 pollici sulla Cupra Formentor. Potete avere un margine di tolleranza, potete montare un ET 38, un ET 45, parliamo di millimetri, e non si noterà granché. Sapete che se il numero è più grande, la ruota tende a stare un po' più dentro, se il numero è più piccolo, tende a uscire un po' di più. Quindi un ET 35 avrà una ruota un po' più sporgente. La mia raccomandazione è di provare a comprare un cerchione che corrisponda perfettamente a quello originale, così da essere assolutamente in linea, come se fosse un cerchio, a tutti gli effetti, originale. Bene, fatto questa manfrina su omologazioni, insomma, codice della strada, misure, eccetera, spero utile, perché comunque è sempre molto importante conoscere queste cose. quando si comincia a mettere mano ai cerchi e ai copertoni, ricordo, i copertoni sono l'unico punto di contatto tra voi e l'asfalto, quindi guai a sottovalutarli. Detto questo, adesso andiamo a vedere però davvero i cerchi, insomma, un po' di backstage da questo punto di vista, perché come vi dicevo, io già ho montato tutto, per cui, insomma, adesso inserisco nella clip alcuni spezzoni che ho girato quando mi sono arrivati i cerchi, quando poi sono andato dal gummista, e vediamo un po' come è andata e poi vediamo anche il risultato finale. Bene, ragazzi, siamo qui con i quattro copertoni pronti e non date, insomma, peso alla scritta Michelin, perché in realtà, insomma, sono soltanto delle coperture che sono molto utili per, non soltanto proteggere e poi stivare i copertoni, insomma, un po' meglio, ma anche poi per prenderli in mano. In questo caso abbiamo soltanto i copertoni, perché naturalmente non avevo ancora i cerchi alternativi, per cui oggi monteremo questi copertoni sui nuovi cerchi, vi faccio vedere tra un attimo. Ottima questa copertura, la potete trovare magari di molte altre marche, insomma, o anche senza marca, praticamente, ma sono molto, molto utili. Quindi adesso li andiamo a caricare, poi insieme ai cerchi andiamo a fare l'operazione dal gummista. Bene, nel frattempo siamo qui con i bei scatoloni, abbiamo uno, due, abbiamo anche un cane, anzi abbiamo due cani, due cani, tre scatoloni, e quello che vedete qui subito, ve lo faccio vedere, è esattamente proprio questa etichetta, questo è il modello, l'RC Design, è la linea della Brock, il produttore è Brock, 8x19, 5x112, è il colore farbe, bronzo, arancione, matto, esattamente non sono questi, questo è il modello silver, che fanno pure, vedete, ECCE, RC34 è il nome del cerchio, ECCE è la certificazione, ma andiamo a vedere effettivamente cosa troviamo dentro, e mi fate sapere nei vostri commenti se vi piacciono a prima vista, probabilmente poi li proveremo in auto, vanno visti sempre in auto i cerchi, purtroppo non ci sono molte immagini, anzi direi zero immagini in rete su questo cerchio, e anche i configuratori online, anche quelli tedeschi non aiutano, 3, 2, 1, eccolo qua, secondo me sta veramente bene, ecco qua Brock, e vediamo se riesco a farvi vedere anche l'omologazione, a questo punto vediamo qui, eccola, 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 vedete questa è l'omologazione E1, che significa Germania, ma quello che conta è 124R, l'omologazione ECCE europea, questo naturalmente deve essere sempre scolpito, inciso sul cerchio, perché deve essere visibile sempre, va bene, adesso direi di andare a vedere come vanno effettivamente questi cerchi, con i copertoni 4 stagioni, per cui direi che è il momento di cominciare a caricare tutto, dal gommista dovrebbero darmi un bel furgone, la cupra formentore è cambiata un pochino, non me la ricordavo così, siamo su un furgone Renault, di quelli della guerra, che mi ha gentilmente dato il gommista per fare questo carico, lo vedete qui dietro, e abbiamo praticamente i 4 copertoni impilati e poi i cartoni con i cerchi, con questo carico sto per andare dal gommista e vediamo che succede. e questo è secondo me, Bene ragazzi, ho fatto vedere anche i cerchi montati, se avete notato è un cerchio molto particolare, cioè cambia il colore, la luminosità in funzione di come vi muovete. Se avete fatto caso nel video che ho inserito, quello in cui l'auto era ancora sul ponte, io mi sposto, c'è il cerchio posteriore destro davanti a me, l'anteriore destro sembra quasi total black. Man mano che mi sposto il ramato emerge, è un bel cerchio che fa proprio giochi di luce in funzione di come ci si trova rispetto al cerchio, rispetto alle condizioni di luce ambientali, veramente notevole. Mi è piaciuto molto, io l'ho comprato un po' a scatola chiusa perché non ci sono foto su internet, forse le prime foto di questo cerchio su una formentora saranno le mie. Il configuratore Brock è molto buono, però è sempre una rappresentazione grafica virtuale che insomma non è molto realistica alla fine. Però devo dire che è andata bene, nel senso sono molto soddisfatto e addirittura superato le mie aspettative. È un cerchio molto più bello di quello che immaginassi e soprattutto questo gioco di luce e di colore lo rende cangiante, un po' come il colore stesso dell'auto. Il grigio magnetico che non è un colore piatto ma cambia molto in funzione delle condizioni di luce, se c'è sole, se è nuvoloso, in base a come vi mettete. Un bel cerchio davvero, almeno per me promosso, magari mi fate sapere se piace anche a voi o se avete altri dubbi e commenti a proposito di quello che abbiamo detto oggi. Per il resto ci vediamo sempre qui sul canale, mi raccomando, alla prossima e ciao ciao!